Ben trovati in studio. Apriamo la seconda parte del nostro Tg occupandoci della provincia. La giunta provinciale ha autorizzato il presidente Franco Antoci a proporre ricorso al TAR contro la revoca del decreto dell'indizione dei comizi elettorali predisposto dal governo regionale. Sentiamo. No al commissariamento della provincia regionale di Ragusa. La giunta provinciale ha autorizzato il presidente della provincia Franco Antoci a proporre ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale di Catania contro la revoca del decreto dell'assessore regionale alle autonomie locali di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale in programma il 6 e 7 maggio 2012. La giunta provinciale ha affidato la difesa oltre al dirigente responsabile del settore avvocatura Salvatore Mezzasalma al costituzionalista professore Agatino Cariola ed ha deciso che le spese legali faranno carico ai singoli amministratori. La decisione di ricorrere al TAR contro la revoca del decreto di indizione dei comizi elettorali fa seguito alla mozione votata sabato scorso dal consiglio provinciale che chiedeva al presidente della provincia di assumere tutte le iniziative possibili, compreso quello giurisdizionale per difendere l'autonomia della provincia e il diritto dei cittadini ragusani ad essere amministrati da organi democraticamente eletti. La scelta di fare ricorso al TAR, dichiarato il presidente Franco Antoci, nasce da una scelta condivisa dal consiglio provinciale e anche in sede nazionale dall'UPI con le altre province scadenza a maggio e destinata, secondo quanto stabilito dall'articolo 23 del decreto Salve Italia, al commissariamento. La decisione è un atto dovuto in difesa dei diritti dei cittadini della carta costituzionale. La Costituzione prevede la presenza delle province come livello intermedio tra regioni e comuni, attribuendo le specifiche funzioni di area vasta e il decreto in questione viola palesemente due principi, quello relativo al profilo costituzionale e quello legato al diritto di voto dei cittadini che con il commissariamento si vedono privati di tale esercizio democratico. Salva l'Università di Ragusa che insieme a quella di Siracusa diventerà al termine delle convenzioni interamente a carico di quella di Catania. A darne l'annuncio è stato il rettore dell'Università di Catania, Antonino Recca. Sentiamo. Approvato dal nuovo consiglio di amministrazione dell'Ateneo di Catania il mantenimento delle sedi decentrate di Siracusa e di Ragusa, sedi di architettura e di lingue e letterature straniere, che saranno interamente a carico dell'Ateneo dal 2014. Un'università a rete con Catania, con corsi di studio distribuiti tra la sede principale di Catania e le sedi territoriali a Retusea e Iblea. Le convenzioni attualmente esistenti dovranno essere però onorate fino all'ultimo giorno, nelle forme pattuite, eventualmente anche con il sostegno del Ministero dell'Università. Il rettore, Antonino Recca, ha definito le due realtà eccellenti, ormai stabili e radicate, in cui i nostri docenti riescono ad assicurare con il loro impegno un'offerta formativa di qualità assoluta, assai apprezzata dal territorio. Due realtà, ha aggiunto, che avrebbero potuto benissimo divenire sedi di Ateneo pubblici a sé stanti, ma ciò, come dimostra quanto è avvenuto in molte altre città del nord, dipende da specifiche decisioni del Governo nazionale. Recca ha sottolineato inoltre che, con la decisione di assumere alla scadenza delle convenzioni tutti i costi delle sedi di Ragusa e Siracusa a totale carico dell'Università di Catania, rimarrà agli enti locali il compito di investire sull'aspetto residenziale, sui servizi e sulle strutture, per gli studenti e sul diritto allo studio. Il Rettore fa inoltre un appello alla Deputazione Nazionale e Regionale, affinché sia unita per il miglioramento della situazione universitaria nei territori interessati. Il settore pubblica istruzione di Ragusa ha reso noto che sono aperte le iscrizioni ai sei nidi comunali, le cui istanze possono essere presentate fino al prossimo 30 aprile. Alle strutture comunali potranno essere ammessi, in base alla ricettività dei nidi, i bambini dai tre mesi ai tre anni. Potranno anche essere ammessi i bambini di età inferiore ai tre anni alla data del 1 settembre 2011, la cui famiglia risiede o presta attività lavorativa nella zona che l'asilo nido è destinato a servire. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al servizio asilinido di via Eceomo 98, i cui uffici sono aperti al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12, mentre il martedì e giovedì sono aperti dalle 15 e 30 alle 17. Ci occupiamo adesso di Ato Idrico. L'assessore provinciale Giovanni Scucces ha incontrato a Palermo i funzionari dell'assessorato regionale al territorio ambiente per discutere dei finanziamenti di alcuni progetti per i comuni della provincia. Sentiamo. Un confronto a Palermo con i funzionari dell'assessorato regionale al territorio ambiente per individuare il percorso utile ad ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione delle opere idriche e fognare e una riunione con i sindaci dei comuni Iblei per illustrare i risultati della missione a Palermo. Nell'agenda dell'assessore provinciale al territorio ambiente e protezione civile Giovanni Scucces con delega permanente a presiedere la conferenza dei sindaci del presidente della provincia per lato idrico di appuntamenti per dare un'accelerazione alla definizione dei progetti. L'incontro di Palermo, afferma Scucces, è stato produttivo perché i funzionari ci hanno fornito utili indicazioni per la presentazione dei progetti in attesa dei relativi finanziamenti. Prioritariamente si definiranno i progetti che risultano improgastinabili in quanto pregiudizievoli del corretto funzionamento degli impianti e delle reti. Scucces ha successivamente illustrato ai rappresentanti dei 12 comuni Iblei i risultati degli incontri di Palermo oltre ad informarli dello stato di avanzamento dei finanziamenti relative agli impianti depurativi già individuati a suo tempo per il superamento della procedura di infrazione comunitaria. La conferenza dei sindaci del Presidente della provincia ha inoltre deciso di dare impulso alla progettualità relativa agli impianti a servizio degli agglomerati inferiori ai 10.000 abitanti equivalenti. Tale compito sarà affidata alla Secretaria Tecnico-Operativa del Lato Idrico che opererà con gli uffici tecnici dei comuni al fine di poter arrivare in tempi rapidi alla definizione degli interventi. Il consigliere del PD vittoriese Angelo Macca ha presentato un'interrogazione scritta per chiedere al Comune di verificare la possibilità di istituire linee marittime per il collegamento tra Scoglitti e le isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria. Considerato che le isole Pelage, Lampedusa e Linosa, ha detto il consigliere, sono collegate via mare solamente con porto Empedocle e che l'isola di Pantelleria è collegata via mare con i porti di Trapani e Mazzara del Vallo. Il collegamento con il porto di Scoglitti, ha aggiunto Macca, costituirebbe la naturale unione delle stesse con il sud-est della Sicilia, dando un notevole sviluppo turistico al nostro territorio. E ci spostiamo ora in prefettura dove questa mattina si è discusso dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari stagionali. Sentiamo. Incontro stamane in prefettura a Ragusa per discutere dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari stagionali. A seguito dell'imminente pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di programmazione transitoria dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2012, infatti, la prefettura, di concerto con l'Ufficio Provinciale del Lavoro, ha organizzato un incontro di formazione e informazione per fornire agli operatori del settore chiarimenti sulle procedure da seguire. Oggetto di specifica attenzione sono state in particolare importanti novità che sono state apportate dal cosiddetto decreto semplificazioni per i casi in cui la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché le quote di ingresso riservate ai lavoratori formati nei paesi di origine. All'incontro cui sono stati invitati gli ordini dei consulenti del lavoro, dei commercialisti e degli avvocati e gli enti di patronato hanno partecipato anche altri uffici istituzionalmente coinvolti nella procedura come la Questura, l'Inps e l'Inail per analizzare ex ante eventuali elementi di criticità che dovessero profilarsi. Domani 4 aprile a Comiso si celebrerà la giornata per ricordare il movimento che nel 1982, 30 anni fa, protestò contro l'installazione dei missili nell'ex base Nato, oggi aeroporto civile. In programma diverse iniziative con convegni, dibattiti, mostre e spettacoli. Ma vediamo il servizio. Aeroporto di Comiso, 30 anni dopo, il 4 aprile del 1982, migliaia e migliaia di cittadini si ritrovarono a Comiso per dire no all'installazione di nuovi missili nella base militare. Era la stagione della guerra fredda e della contrapposizione tra est e ovest. La decisione di realizzare l'insediamento di Comiso aveva dato vita ad un movimento che aveva riunito donne e uomini di diversa ispirazione politica, sociale e religiosa nel segno della pace. Alla testa e al fianco di quel corteo, alla guida di quel movimento fatto di donne e uomini, di culture e di esperienze diverse, c'era Piola Torre che poche settimane dopo, il 30 aprile del 1982, fu assassinato a Palermo insieme a Rosario di Salvo. Per ricordare quei momenti e per riaffermare un impegno e una volontà di pace per denunciare la militarizzazione del territorio siciliano, da Trapani a Lampedusa, da Sigonella a Niscemi, attraverso il Global Hawk e il MUOS, diverse associazioni di diversi ambiti si sono unite promuovendo domani un'intera giornata che attraverso dibattiti, mostre, spettacoli e tanto altro vuole rilanciare l'impegno contro le mafie e in difesa del territorio siciliano. Inizio previsto per le ore 10.30 con un convegno al Teatro Naselli. E adesso il basket. Vittoria per la Passalacqua Spedizioni Ragusa che ha superato l'ostacolo Defensor Viterbo 78 a 45. Sentiamo. Un basket a tratti spettacolare, quello giocato ieri al Palaminardi di Ragusa dalla Passalacqua Spedizioni. Le gestiste ragusane hanno infatti battuto il Defensor Viterbo 78 a 45 al termine di una gara che ha esaltato la squadra e le individualità del quintetto bianco-verde. La partita ha offerto al coach Savini indicazioni importanti sul rendimento degli elementi di maggior classe e sul processo di maturazione delle più giovani. Il ritorno sul parquet dopo 45 giorni di Silvia Sarni va inoltre a rendere ancora più competitivo il reparto delle lunghe, offrendo la possibilità di difendere con maggiore intensità e di variare ancora di più gli schemi in fase offensiva. La Passalacqua si presenta in campo con Linda Manzini, Mara Buzanca, Alia Valerio, Martina Bestagno e Clarisse Macianguana. Già al primo intervallo il divario è di 13 punti a favore della squadra eblea. Viterbo in apertura di secondo parziale fa vivere qualche momento di paura mettendo a segno un break di 11-0 che illumina sul tabellone il 19-17. La Passalacqua capisce che non sono ammesse distrazioni e ricomincia serrando gli spazi in difesa e proteggendo il vantaggio per il resto della partita. A fine gara, coach Marco Savini è soddisfatto di quanto mostrato in campo dalle sue atlete. Abbiamo reso facile la partita con una buona prestazione, siamo in crescita e possiamo ancora migliorare nelle due gare che mancano prima dei play-off. Ed è tutto per questa edizione del nostro TGN. Ringraziarvi per aver scelto ancora una volta la nostra informazione Vi ricordo che potete rileggere tutte le nostre notizie ma anche rivedere tutte le edizioni del nostro TG andando sul nostro sito www.freetvonline1.it Abbiamo anche la nostra pagina Facebook Free TV Comiso. Grazie e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!